La strage di Erba con Olindo e Rosa, l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia e l'omicidio di Iara Gambirasio e altri hanno avuto tutti un sottile filo comune. Un soggetto di colore entrato nelle indagini, poi scagionato o alle volte condannato. Per Olindo e Rosa si fermò un traghetto in navigazione per un sospettato di colore a bordo. Nel deritto di Meredith i sospetti si concentravano sul gestore di un locale, poi risultato estraneo e per la povera Iaria si indagò nelle prime ore tra gli operai di colore di un cantiere edile adiacente alla palestra. Ora, per la povera Pamela Mastropietro, fatta a pezzi e rinchiusa in due trolley, sul banco dei sospettati c'è il nigeriano Osegale. Poi accade che uno squilibrato impugna una pistola calibro 9 e si incomincia a sparare all'impazzata nel centro di Macerata e così una piccola e tranquilla comunità con due episodi di inaudita violenza piombano nel baratro della paura e del sospetto. Luca Traini voleva pareggiare i conti prendendosela con quelli di colore. Un'escalation pericolosa però che porta a un clima di tensione e in ognuna delle parti ci si guarda alle spalle. Ma nella nostra realtà fanese, piccola come può essere quella di Macerata, misura d'uomo e di donna dove possibilmente ci si conosce e ci si guarda ancora negli occhi. Qual è la percezione di questo momento particolare? Come si vivono i rapporti tra le due comunità. Secondo lei Fano è una città tollerante? No, è abbastanza tranquilla come città, ancora. Ancora? Per il momento sì. Ecco, quindi episodi insomma... No, non credo che ci siano stati così eclatanti come quelli lì di Macerata, insomma. Quello è un matto, un pazzo, quindi voglio dire no, non è... Secondo me l'avvocato ha chiesto anche la perizia psichiatrica perché insomma è inesaltato, se non altro è inesaltato che... Eh, si comportano bene. Quindi non ci sono episodi di intolleranza? No, io non ho mai visto niente. Anzi, anzi sorrisi, magari qualcuno le dice dai quando torno ti do qualcosa, però cercano qualche l'emogene... Io gli adoro, quindi per me va bene così. Va bene, ci sei che ha di dargli una mano, di aiutarlo? Certo, certo, perché no? Sì perché ti parcheggia il pagamento, tocca pagare il pagamento, poi tocca pagare l'ora, tocca pagare due volte, è giusto, no? Anzi qua ce ne sono parecchi di estracomunitari, si mandengono, sono educati, sono bravi ragazzi e la gente li rispetta. Insomma la presenza degli estracomunitari è una presenza fastidiosa, tolleranze... Tolleriamo. Tolleriamo. Tolleriamo.